Questa tecnica di massaggio preequilibrio in Yanga fa parte di un bagaglio antichissimo che viene chiamato Tui Na. Il Tui Na è il massaggio cinese. In questa metodica si fondono gli elementi del Tui Na e del micromassaggio cinese. Il micromassaggio cinese è una tecnica che ho avuto la fortuna e l'onore di apprendere dal fondatore dell'agopuntura in Italia, il professor Ulderico Lanza, che mi ha trasmesso i segreti di questa antica arte. Questa metodica ha lo scopo preciso e specifico di esser tante vero che viene nominata come una sorta di agopuntura senza aghi e la commissione di queste due metodiche, il massaggio cinese, che è molto simile per alcuni versi al massaggio occidentale, se non per i principi che lo regano, che sono quelli dell'equilibrio energetico, e la tecnica più specifica del lavoro sui punti secondo la metodica del micromassaggio, la fusione di queste due metodiche rende utilissima questa tecnica in tutte le situazioni in cui vi è una dissociazione, uno stacco, un disequilibrio tra lo Yin e lo Yang del corpo. Tradizionalmente il tutto è riconducibile al Twin A, poi dal Twin A è stato estrapolato il micromassaggio cinese grazie all'esperienza dei primi maestri francesi del Borsarello e in Italia Ulderico Lanza è stato il padre di questa metodica, a lui tanti altri grandi maestri, il Caspani ed altri, e l'hanno resa però una tecnica quasi indipendente. Il Twin A non fa un lavoro specialistico, addirittura fa delle modalità diverse per pianificare e disperdere. e reintegrarle fa parte un po' della mia esperienza personale di aver imparato queste metodiche separate e reintrodurle in una fusione che la rende abbastanza unica. Dopo aver eseguito questa manovra si fanno due movimenti, uno di KFA che è una va e vieni spinta nella zona dei reni, eseguito con tutto il palmo della mano. 10-15 passaggi, ora eseguirò delle manovre di ANFA, di spinta, spinta con la pressione di tutto il corpo sul palmo della mano ai lati della colonna. Le mani vanno incrociate in maniera da dividere il peso in spinta con direzione leggermente obliqua per non andare addosso alla colonna vertebrale. Questa è l'unica, tra virgolette, metodica di massaggio che può essere fatta, tra virgolette, da uno che non sa nulla per cominciare. Poi gli interesserà, approfondirà gli studi e se no rimane comunque una metodica da fare in casa alla persona che conosce per riequilibrare qualsiasi disturbo. Ho visto gente cominciare per la prima volta a toccare una persona e scoprire che la persona si è rilassata, si è sentita meglio, respira meglio, dorme bene e quindi comincia già a vedere degli effetti positivi e il professionista la integrerà a tutte le sue tecniche. Grazie.